Io mi chiamo Giovanni Sorrentino, lavoro presso ECO eLearning Studio di Roma. La ECO si occupa di formazione a distanza, quindi di formazione mediata dalle tecnologie. In particolare io mi occupo di ricerca e di innovazione, sempre chiaramente in quest'ambito. In particolar modo mi occupo di tecnologie per l'innovazione, applicate soprattutto ai progetti finanziati, quindi progetti sia nazionali che internazionali, europei, sempre sul nostro settore. I maggiori clienti della ECO sono, il nostro settore di mercato è quello del corporate, quindi abbiamo grandi aziende, soprattutto nel settore bancario, finanziario, quindi assicurativo. Riguardo al cloud computing, noi ci stiamo attrezzando in questi mesi, direi, per passare a piattaforme cloud computing e offrire ai nostri clienti soluzioni innovative anche in questo settore. La strada che stiamo percorrendo ci porta però ad implementare, non tanto vedo platform as a service o infrastructure as a service, noi lavoriamo piuttosto con il paradigma del content as a service. Cioè noi produciamo soprattutto contenuti, contenuti formativi che poi vanno inseriti in corsi più ampi, offerti ai nostri clienti. Sono proprio questi contenuti che noi sviluppiamo collaborando con i clienti, che noi mettiamo a disposizione su piattaforme cloud. Questo significa, questo offre dei benefici assoluti, sono i benefici classici del cloud computing, sia per noi che per i nostri clienti, nel senso che il beneficio maggiore sia quando si possono lasciare i contenuti formativi sui nostri server ed essere richiamati on demand da parte dei nostri clienti. Per chi opera nel nostro campo, quello della formazione, quindi per le aziende che elargiscono corsi, sa che è molto complesso quel meccanismo che ci porta a distribuire effettivamente i nostri corsi presso i clienti. Cioè occorre creare dei canali specifici e anche dal punto di vista tecnologico, i clienti erano costretti, senza cloud computing, a caricare sulle proprie piattaforme di e-learning tutti i nostri contenuti, qualunque fosse la mole. E spesso vi erano dei problemi già soltanto in questo caso. Col cloud computing invece tutti i contenuti rimangono da noi e possono essere fruiti semplicemente con un click, richiamati e scaricati giusto per l'uso. Questo porta dei benefici enormi proprio in termini di manutenzione dei corsi, per esempio. Da parte nostra, ma perché abbiamo tutto centralizzato, quindi siamo noi che possediamo tutto sui nostri server. Quindi significa che tutta la manutenzione, quindi variazioni, modifiche, migliorie, sono molto più rapidi, molto più efficaci. E questo ha una ricaduta immediata sui nostri clienti perché non si possono disinteressarsi di questo tipo di manutenzione perlomeno. Cioè non devono avere in loco dei server e caricare tutto il materiale ed eventualmente modificarlo a seconda delle loro esigenze. Non lo stiamo implementando adesso, non sono ancora attivi. Abbiamo già dei contatti e quindi abbiamo avviato già delle sperimentazioni, chiamiamole così, con alcuni nostri clienti, con i V-Bank per esempio, con Unicredit, stiamo di lì per partire anche con loro, per fornire servizi in questo modo, quindi content as a service. La sfida maggiore che ci ha posto questo cliente di innovazione è tecnologica. Nel senso che noi eravamo abituati ad avere piattaforme, ormai piuttosto antiquate, piattaforme di e-learning, quindi software che ci dava la possibilità di gestire utenti e materiale didattico in un'unica piattaforma, quindi con un unico database di riferimento. Questa piattaforma LMS, Learning Management System, poteva essere nostra e quindi i clienti si connettevano ai loro corsi via web o poteva essere invece del cliente stesso, al quale poi noi dovevamo caricare tutti i nostri contenuti didattici e dovevamo manutenere comunque quella macchina. Con il cloud cambia tutta la prospettiva, per cui noi dobbiamo fornire, dobbiamo modificare le nostre infrastrutture tecnologiche. Una nuova piattaforma di Learning Management System, in pratica, e nuovi standard tecnologici da adottare. In particolare ce n'è uno, e non voglio essere troppo tecnico, però è abbastanza semplice, si chiama XAPI, Experience API, e sono delle software, insomma, è uno standard che definisce come possono essere tracciate e immagazzinate le esperienze formative. E questo ci aiuta molto, questo standard che è recente, perché supera il problema della piattaforma attraverso la quale fruire dei corsi. Nel senso che attraverso il web tu puoi richiamare unità didattiche presenti in server diversi, e quindi di natura assolutamente diversa, legandole però insieme come un'unica esperienza formativa. Quindi la sfida maggiore è appunto introdurre questo standard nella nostra infrastruttura tecnologica per la formazione, ed è una cosa che abbiamo praticamente finito proprio in queste settimane, e quindi siamo pronti per partire. E questo ci dà la possibilità di trarre tutto il beneficio dal cloud computing. I clienti sono affascinati da questi cambiamenti, perché per loro si aprono nuove prospettive per la formazione, cioè si è più liberi. La formazione non è soltanto quella che si fa davanti al computer fisso, con le pagine che scorrono, le slide che scorrono, ma possono essere usati smartphone, ma soprattutto si possono vivere esperienze formative di diversa natura, che fino ad oggi non erano state così, perlomeno nell'ambito corporate bancario, quello di nostro riferimento. Erano usate in realtà in modo molto marginale, quasi per nulla. Significa che si possono fare giochi, game, collegandosi a piattaforme per il gaming, si possono fare, si può fare formazione ubiqua, si dice, ubiquitous learning, cioè anche nei luoghi fisici, dove musei, cose così, dove accadono momenti formativi. Per loro si aprono davvero le prospettive. Le esperienze che possono essere associate all'attività formativa tradizionale, diciamo, sono molto ampie. Si parla di informal learning, ecco, è un'apertura verso l'informal, quello che noi proponiamo. Validare le competenze acquisite, comunque acquisite, quindi anche quelle informali, è un processo lento, difficile, e noi, insomma, predisponiamo, diciamo, la struttura tecnologica affinché questo possa un domani essere attuato. non ci poniamo obiettivi troppo ambiziosi. Però di sicuro noi possiamo dare la possibilità di agevolare, ecco, agevolare le esperienze informali. Beh, diciamo che noi siamo in una situazione abbastanza protetta, perché noi offriamo, stiamo cominciando ad offrire servizi legati al content as a service, quindi al cloud computing, ai nostri clienti, clienti già consolidati, perché il problema della sicurezza relativa al cloud computing non è molto diversa dalla sicurezza in generale dei dati informatici. La cosa che cambia notevolmente è il fatto che i dati tu li lasci in casa del tuo fornitore, quindi non ne vedi l'utilizzo, non ne conosci a fondo i meccanismi con cui questi dati vengono trattati, resi disponibili. E questo è quello che sconcerta, che dà dei problemi. Noi, ripeto, offriamo i nostri servizi a clienti consolidati, quindi questo problema non ce lo poniamo. non se lo pongono eccessivamente. Quindi noi abbiamo la nostra politica sulla sicurezza dei dati, che è quella che seguiamo da anni ormai, rinnovando di volta in volta i meccanismi tecnologici che ci consentono di garantire questa sicurezza, ma non ci siamo posti un problema eccessivo in quest'ambito. Perché, ripeto, secondo me i problemi legati alla sicurezza non sono specifici del cloud computing, se non per il fatto che appunto con il cloud computing tu devi affidare i tuoi dati ad un terzo che li gestisce, li tiene nei suoi server, li gestisce... E quindi spesso manca la chiarezza. Ma non è un problema nostro per il momento, e comunque ci stiamo attrezzando anche per il futuro. Noi abbiamo, intanto abbiamo comprato un sito già da tempo e lo stiamo popolando, come si dice, formazionedigitale.cloud, appunto, dove convergeranno tutti i nostri canali specifici, cioè stiamo creando una serie di canali specifici per ogni tipologia di materiale didattico. quindi dal gioco, dal game, ai video, insomma tutta una serie di servizi specifici, quindi per ciascun canale, che convergeranno appunto in questa nostra piattaforma, attraverso la quale sarà possibile richiamare i vari servizi, quindi con un semplice click, con una semplice procedura, e quindi si possono costruire esperienze formative, ma corsi veri e propri, in modo molto più elastico, molto più rapido e flessibile di quanto non fosse in passato.